ciao io sono ombretta e oggi sono qui per approfondire lo sbalzo lo sbalzo è una tecnica decorativa antichissima attraverso cui si danno delle forme a rilievo a delle sottili lamine metalliche le lamine metalliche più usate per lo sbalzo di solito sono le lamine in rame proprio perché il rame è molto duttile è molto facile da lavorare e quindi si presta molto bene a questa tecnica ma ci sono tante lamine che si possono lavorare anche molto preziose come quelle di oro e di argento per esempio nell'iconografia russa e bizantina ci sono proprio delle intere lamine a proteggere alcune icone che si chiamano risa e che si mettono sopra le icone per orpellarle per decorarle nei giorni di festa è come se fosse un gioiello che si mette per esempio ad una madonna per renderla bella il giorno della sua festa queste lamine sono lavorate proprio con la tecnica dello sbalzo questo per farti capire quanto la tecnica dello sbalzo sia una tecnica antica è una tecnica relativamente semplice ma che ha bisogno di alcune accortezze per essere portata avanti nel migliore dei modi innanzitutto bisogna avere un tappetino in feltro abbastanza spesso poi devi procurarti degli strumenti che si chiamano bulini sono delle penne che finiscono con delle punte metalliche a forma di pallina di diverse dimensioni bene con quelle lavorerai sul retro della tua lamina andrai su queste dapprima a creare un disegno con una matita leggera mi raccomando si molto delicato sulla lamina metallica perché è molto facile fare dei buchi quindi con una matita fai il tuo disegno dopodiché ripassa a bulino a seconda delle dimensioni usa il bulino più idoneo sulla lamina metallica alla fine gira la lamina e wow la meraviglia sarà davanti ai tuoi occhi avrai creato uno sbalzo meraviglioso se avrai seguito determinate regole di accortezza la prima e la fondamentale è non pressare troppo la seconda regola è non fare scorrere il bulino troppo velocemente perché l'attrito genera calore il calore crea dilatazione e la dilatazione crea i buchi sulla lastra e questo noi non lo vogliamo non ho la tecnica dello sbalzo che sembra una tecnica così antica e così caduta in disuso in realtà è una tecnica bellissima per creare degli oggettini super moderni come ad esempio dei bellissimi ciondoli shabby chic per le nostre case basta spingere un po avanti la nostra creatività per creare cose utili e attualissime che davvero ha grandi potenzialità per mantenere bene le nostre lastre lavorate a sbalzo conservare sempre in una carpetta ampia e proteggile con il pluriball quella carta tutta palline che ci divertiamo tanto a schiacciare bene questo farà sì che la lamina non si ammacchi e mantenga sempre la sua struttura quando fai un oggetto cerca di mettere sempre un substrato all'interno quindi riempi tutte le parti che hai lavorato a sbalzo con qualcosa che faccia mantenere la forma io ti suggerisco di riempire i vuoti con la colla a caldo questa si inserirà perfettamente in tutti i vuoti e farà sì che la forma rimarrà fedele nel tempo usa l'alluminio per creare i tuoi sbalzi sì proprio le vaschette per contenere gli alimenti quelle sono fantastiche lisciale da eventuali pressature di fabbrica passandole su un bordo del tavolo dopodiché utilizzale come una normale lamina venduta in tutti i negozi di belle arti per colorare le lamine metalliche puoi usare gli smalti per unghie sono trasparenti bellissimi ed economici quindi ricicla quello che è in casa per dare effetti cromatici fantastici alle tue creazioni sbalzo bene spero che tutti questi suggerimenti e quello che ti ho detto durante il video ti sia servito da approfondimento noi ci ritroviamo sempre qua ciao in collaborazione con la raffaello editori contenuti digitali compresi all'interno del bellissimo libro spazio arte di cui ho curato moltissimi contenuti digitali